Buongiorno e ben ritrovati. Siamo ormai nel pieno della stagione delle dichiarazioni dei bilanci. Sì, dico dei bilanci perché credo sia abbastanza improbabile che tutte le società di capitale abbiano approvato nei termini di leggi ordinari 120 giorni i loro rendiconti considerando la molida di adempimenti e le complicazioni che purtroppo ci assillano. Ed è per questo che faccio una riflessione aggiuntiva su un tema del quale abbiamo parlato in altre occasioni ma sul quale forse è opportuno riporre l'attenzione, ossia sulla rivalutazione dei beni di impresa che certamente sono possibili in presenza di specifiche disposizioni di leggi ma che in qualche caso tutto sommato possono essere attuate anche in assenza di una previsione cogente in questo senso. Questo perché di fatto i bilanci come è noto contengono dei plus valori latenti che in realtà se fatti emergere potrebbero significativamente migliorare quello che è il patrimonio netto, soprattutto in presenza di perditi di esercizio che potrebbero per certi aspetti obbligare ad adottare quelle che sono le disposizioni del Codice Civile. Mi riferisco in particolare agli articoli 2446 e 2447 per l'SPA e 2482 bis e 2482 ter per l'SRL in tema di provvedimenti appunto da adottare in presenza di riduzione del capitale oltre un terzo oppure sotto un terzo, addirittura sotto il mino. Ora fermo restando che in questo periodo abbiamo avuto per così dire il conforto delle norme emergenziali che hanno permesso di sterilizzare per oltre cinque anni le perdite che sono motorate, che sono emersi nel 2020, nel 2021 e anche nel 2022. Vediamo però se comunque indipendentemente da questo e unitamente al fatto che comunque varie disposizioni normative hanno permesso di valutare i beni di impresa, se questo sia appunto possibile solo in presenza di previsioni di legge. Qui dobbiamo fare un'osservazione. Se non c'è una norma che autorizza simile operazione, le rivalutazioni volontarie non sono ammesse, salvo che ci sia un evento eccezionale che abbia il carattere della straordinarietà. A questo riguardo il Codice Civile peraltro non individua quali sono i possibili casi eccezionali né qual è l'elemento di straordinarietà che in qualche modo può autorizzare ad effettuare una rivalutazione volontaria, fermolestando che in ogni caso, quando anche si decidessi di operare in questa direzione, non potrebbe avere nessuna rilevanza da un punto di vista fiscale. Ecco che allora la dottrina sulla scorta anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato alcune casistiche in presenza delle quali è legittimo che l'amministratore, al quale compete naturalmente la responsabilità in tal senso possa procedere ad effettuare appunto questa rivalutazione. E allora vediamo per esempio le casistiche fondamentali, potrebbe essere l'ipotesi di un terreno che da agricolo diventa edificabile e questo evidentemente comporta l'emersione di un maggior valore che potrebbe essere legittimamente utilizzato per effettuare la rivalutazione con conseguente positivo impatto sul patrimonio netto, ma potrebbe anche essere il caso di un fabbricato del quale cambia la destinazione urbanistica, per esempio da artigianale a residenziale e quindi a quel punto evidentemente il mercato andrà a recepire dei maggiori valori che possono anche in questo caso autorizzare l'amministratore senza particolare criticità a far emergere in bilancio questi maggiori valori. Un'altra casistica che per l'altro trovò la codifica in una pronuncia assai datata di oltre venti anni fa del Tribunale di Milano che guardava l'ipotesi in cui successivamente alla chiusura del bilancio di esercizio, ma prima dell'approvazione del bilancio medesimo, la società abbia stipulato un contratto preliminare di compravendita nel quale si pattuisce espressamente il prezzo e si pattuisce anche la corrispondizione di una caparra confirmatoria, ebbene questo tipo di operazione di per sé permette al redattore del bilancio di derogare a quello che è l'ordinario criterio del costo perché evidentemente prima che ci sia l'approvazione del bilancio esiste già un valore certo ulteriore rispetto a quello che emerge dalle scritture contabili rispetto al costo storico e che serve per incrementare il valore con i possibili effetti positivi come accennato in premessa sul patrimonio netto dell'impresa. Quindi come vedete ci sono delle casistiche che ancorché non espressamente disciplinate o diciamo che si dà una norma di legge, possono autorizzare il redattore del bilancio a procedere a rivalutazioni volontarie. Naturalmente fatta questa premessa è banale affermare che nella nota integrativa deve essere fatta ampia menzione delle ragioni che hanno indotto a derogare all'utilizzo del criterio ordinario del costo proprio per evitare responsabilità o comunque una carenza di informativa che invece in questo caso risulta assolutamente rilevante anche perché questo va a impattare sul patrimonio netto e soprattutto sull'utilizzo del bilancio che possono fare terzi soggetti segnatamente per esempio le banche, gli istituti di credito che guardano sempre con particolare attenzione a quella che è l'integrità del patrimonio al fine di erogare linee di credito. Quindi come vedete ci sono queste possibilità che sono diciamo si dettate da una prassi, ho parlato del terreno edificabile che diventa, del terreno agricolo scusate che diventa edificabile, del cambiamento della destinazione di uso da artigianale a residenziale di un fabbricato oppure della stipula di un contratto preliminare di compravenza, però queste casistiche sono state individuate così in via induttiva diciamo così dalla dottrina non sono codificate espressamente dal codice civile ed è per questo che appunto occorre sempre prestare massima attenzione ad effettuare queste rivalutazioni fermo restando e corre l'obbligo ancora di precisarlo che i maggiori valori che sono emersi indipendentemente dai benefici effetti sul patrimonio netto non possono ritenersi fiscalmente rilevanti finché poi l'atto materialmente non si realizza diciamo quello che è l'effetto traslativo del bene e quindi in qualche modo questo legittima il maggior valore che l'amministratore ha precedentemente utilizzato in luogo del costo storico. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invio al prossimo appuntamento.